Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Udinese TV in questo nostro ultimo appuntamento di giornata. Iniziamo come sempre con l'aggiornamento dei dati del contagio da Covid-19 della giornata di quest'oggi, così come riportati dal bollettino del Ministero della Salute. Quest'oggi sono 28.352 i nuovi casi, appunto i casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 827, gli attualmente positivi invece scendono di 7.952 unità, mentre guariti e dimessi sono 35.467. Per il secondo giorno consecutivo diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva con un calo di 64 unità e in calo ancora per il quarto giorno consecutivo anche i ricoverati in area medica. Quest'oggi è emanata una nuova ordinanza da parte del Ministro Speranza, diventano zona arancione la Calabria, la Lombardia e il Piemonte, area gialla invece per Liguria e Sicilia. Ordinanza che entrerà in vigore dal 29 novembre. Nel frattempo si delinea il di PCM per il Natale, ma il coprifuoco resterà alle 22. L'appello dei medici a non allentare le restrizioni e gli ospedali scoppiano. L'Unione Europea la prossima settimana ci sarà l'orientamento comune sulle festività. E ancora parliamo di USCA, 610 unità speciali di continuità assistenziale in Italia, su 1.200 previste. In alcune regioni le hanno addirittura cancellate. Nelle regioni dove mancano c'è un tasso di ospedalizzazione più alto. Ad affermarlo è stato Antonio Maggi, il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, riferendosi quindi alla sentenza del Tar del Lazio che stabilisce che i medici di famiglia non possono visitare i pazienti Covid. A casa, Maggi ha sottolineato che il medico in quanto tale ha l'obbligo deontologico di seguire il proprio paziente. Ed è proprio per evitare che il medico di famiglia si possa ammalare che sono state costituite le USCA dove è prevista un'equipe di specialisti e di infermieri che va a seguire il paziente a domicilio. Il delicato tema della scuola è ancora scontro. De Micheli è aperte anche nel weekend. Il no da parte dei presidi sulla possibilità di scaglionare con gli ovvi limiti di ragionevolezza, gli orari di ingresso a scuola ci siamo già espressi più volte favorevolmente. La condizione è che i mezzi di trasporto vengano conseguentemente riorganizzati per permettere agli studenti di arrivare a scuola e poi rientrare a casa. Ricordando che ci sono studenti che fanno un percorso appunto con i mezzi pubblici che può durare addirittura un'ora se non di più. Anche per questo ritengo irrealistico pensare di allungare la settimana scolastica anche alla domenica mentre il sabato per moltissimi istituti è già giornata di lezione. Così ha detto il presidente dell'associazione nazionale presidi Antonello Giannelli rispondendo senza citarla alle proposte lanciate alla ministra dei trasporti De Micheli che appunto in un'intervista aveva detto credo sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato. La domenica siamo in emergenza e bisogna far cadere ogni tabù. Io sarei per riaprire la scuola già in dicembre ma su questi temi non si possono fare cose diverse l'uno dall'altro. Di scuola si è parlato troppo poco. Per me la scuola è anche socialità. Relazioni stiamo rischiando di non comprendere fino in fondo il prezzo che stiamo facendo pagare ai ragazzi e quanto ha detto Stefano Bonaccini presidente della regione Emilia Romagna. Diversa invece l'opinione di Luca Zaia che ha detto riaprire le scuole il 9 dicembre e dicembre magari in fretta e furia è un errore e intanto in Alto Adige lunedì riprenderà la didattica in presenza nelle scuole medie e apriranno tutti i negozi. Il Parlamento invece ha approvato all'unanimità il quarto scostamento di bilancio dall'inizio della pandemia liberando così circa 8 miliardi di euro necessari per finanziare nuove misure a favore del rinvio delle tasse privilegiando chi ha subito un calo di fatturato. Un voto bipartisan in un clima di convergenza e di dialogo come ha ospicato dal Colle grazie alla rinnovata unità raggiunta a fatica dal centrodestra dopo giorni di tensione. Berlusconi ha calcato la mano parlando di un primo passo nella strada giusta di unire le forze contro la pandemia, quella della collaborazione istituzionale che recepisce l'appello del capo dello Stato. Un voto salutato dal Premier Giuseppe Conte come un ottimo segnale in questo momento di particolare difficoltà per il Paese. Invece Salvini definisce il sì allo scostamento un successo visto che a suo dire il Governo ha capito che da solo non va da nessuna parte ed è stato costretto ad ascoltare non il centrodestra unito ma il Paese. Rimanendo in tema, lo stop fino al 30 aprile 2021 alle tasse per chi abbia subito delle perdite di fatturato a causa del Covid è la misura che dovrebbe arrivare con il decreto Ristori Quater. La misura dovrebbe valere per chi ha subito un calo di fatturato del 33% sul semestre. Il Consiglio dei Ministri per il varo del decreto Ristori Quater dovrebbe essere convocato tra domenica e lunedì. Tra le misure del nuovo decreto dovrebbe esserci il rinvio degli acconti fiscali di IRPEF, IRES e IVA del 30 novembre. Nel nuovo decreto Ristori dovrebbe esserci un margine di 600 milioni per le modifiche del Parlamento, un rinvio delle rate della rottamazione terra e del saldo estralcio al 1 marzo 2021. E questo è l'orientamento del Governo per evitare che dal 10 dicembre chi ha dei debiti con il fisco venga chiamato di nuovo a pagare dopo la sospensione decisa nella prima fase dell'epidemia Covid. Salta invece l'ipotesi di un bonus di Natale da 500 euro per i lavoratori in cassa integrazione. Entriamo ora in Regione, le principali notizie con i nostri titoli. Sono 35 i decessi causati dal Covid in Regione nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. 864 i nuovi positivi, l'11 86% dei tamponi fatti, ma ci sono segnali di miglioramento, scendono i ricoveri e Riccardi annuncia un calo anche dell'RT. Pedriga invece annuncia che non ci sarà zona rossa per il frioli Venezia Giulia e si sbilancia su dicembre. Se le statistiche continueranno a migliorare col nuovo DPCM torneremo in area gialla. Intanto Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancioni, gialle Liguria e Sicilia. Il reo confesso dell'omicidio di Aurelia Laurenti durante l'interrogatorio è apparso confuso e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attesa nelle prossime ore la convalida dell'arresto, le comunità di San Quirino e Roveredo lanciano una raccolta fondi per i figli della coppia. La giornata degli sconti non decolla in Regione, prevedibile viste le limitazioni e la situazione generale di pandemia. Praticamente tutti i negozi hanno allargato le loro offerte a tutta la settimana. Kevin non ha recuperato dopo la contusione al ginocchio subita con la Fiorentina. A Roma De Pol disputerà la gara numero 150 in bianco-nero. L'avete sentito nei titoli, è il nuovo record di vittime in Friuli-Venezia-Giulia, 35, quelle registrate nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i contagi, oltre 860, mentre la Regione spiega che l'indice RT continua a calare e nel frattempo continua l'attività di screening nei sei comuni ad alto tasso di contagio. Il servizio di Davide Zanirato. Torna a crescere per il terzo giorno di fila il numero dei contagi da Covid-19 in Friuli-Venezia-Giulia e nelle ultime 24 ore si è toccato il nuovo record assoluto di vittime, ben 35. Oggi sono stati rilevati 864 nuovi contagi, l'11,8% dei 7284 tamponi eseguiti, con i casi attuali di infezione che salgono a quota 14.594. Rimangono stabili a 55 pazienti in cura in terapia intensiva, scendono di 5 unità quelli ricoverati negli altri reparti. I totalmente guariti sono 12.593, le persone in isolamento 13.606. Usciamo da questa settimana con la conferma da parte del governo delle condizioni che collocano ancora il Friuli-Venezia-Giulia in zona arancione, ha dichiarato il vice governatore Riccardo Riccardi, rendendo noto che l'indice RT per il Friuli-Venezia-Giulia tende a calare in modo significativo. I decessi complessivamente ammontano però a 776, di cui 18 gli ultimi in provincia di Udine. In 12 hanno perso la vita nelle case di riposo, gli altri in ospedale. Il più vecchio aveva 103 anni, la più giovane una donna di 57 anni di Castions di strada. Per quel che riguarda le nuove positività al virus nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 84 casi di persone ospitate positive, 24 tra gli operatori. Negli ospedali invece 37 contagi tra medici, infermieri e amministrativi. Da lunedì nel frattempo la terapia intensiva Covid al dodicesimo piano di Cattinara sarà ampliata nei posti letto da 17 a 25, gradualmente in base alle necessità. Continua nel frattempo l'attività di screening nei sei comuni individuati dalla regione come situazioni più complicate. Oggi è stato il turno di Dolegna del Collio e si sono conclusi i test a Socchieve con oltre 600 degli 800 residenti che hanno risposto all'invito del Dipartimento di Prevenzione. Pochissimi i casi di positività. Domani e domenica sarà la volta di Sutrio, Castelnuovo del Friuli e della Valcellina tra Erto e Casso, Andreis, Barcis, Claute e Cimolais. Mentre la prossima settimana, lunedì, martedì e mercoledì, sarà la volta di Paularo. La nostra regione rimane ancora arancione, lo ha confermato il Presidente Fedriga anticipando i risultati del monitoraggio settimanale. Riguardo l'emergenza Covid ho sentito questa mattina il Ministro della Salute Roberto Speranza che mi ha comunicato che anche dai dati nazionali risulta che il Friuli Venezia Giulia è in una situazione di miglioramento. Questo significa che non c'è alcune ipotesi che il Friuli Venezia Giulia diventi zona rossa, anzi dagli attuali dati saremmo già in zona gialla, ma questo miglioramento dovrà perdurare per le prossime settimane e quindi se ciò avverrà col 3 dicembre, ovvero col nuovo DPCM, potremmo diventare effettivamente zona gialla. Dobbiamo continuare a metterci il massimo impegno al fine di poter quindi arrivare in una situazione di minori restrizioni, ma soprattutto da qui ai prossimi mesi per tutelarci a vicenda e salvaguardare la salute di tutti. Devo dire che mi sorprendono le speculazioni fatte dai cune forze politiche in Friuli Venezia Giulia che raccontavano di una situazione in netto peggioramento, speculazioni che oggi vengono smentite dai dati nazionali. Dispiace perché parlare male del Friuli Venezia Giulia non danneggia un'amministrazione, ma danneggia l'intera comunità e soprattutto in un momento di pandemia non possiamo permettercelo. Tutti dobbiamo impegnarci, tutti dobbiamo lottare dalla stessa parte della barricata per salvaguardare salute ed economia. È chiaro che la pandemia non sia finita e per questo dobbiamo continuare a combattere insieme, dobbiamo continuare ad impegnarci per impedire che il virus si diffonda. Infine voglio ringraziare le donne e gli uomini che in prima linea stanno combattendo per garantire la salute di tutti. Il ringraziamento è da parte di tutta l'amministrazione regionale che ha l'orgoglio di avere persone come voi che non si arrendono e continuano a combattere. E arriverà nelle prossime ore la convalida dell'arresto di Giuseppe Forcinti, reo confesso dell'omicidio della compagna. Nell'udienza di oggi l'uomo è apparso confuso, faticava a ricordare e si avvalso anche della facoltà di non rispondere. Il GIP del Tribunale di Pordenone si è riservato la decisione relativamente alla convalida dell'arresto di Giuseppe Forcinti che nella notte fra mercoledì e ieri ha ucciso a Roveredo in piano la compagna Aurelia Laurenti. Nel corso dell'udienza il difensore Ernesto De Toni non si è opposto alla convalida, ne ha fatto istanza per i domiciliari. Nelle prossime ore il giudice si esprimerà sulla convalida. L'accusa rimane quella di omicidio pluriaggravato. Forcinti, apparso confuso, provato e con frequenti vuoti di memoria, ha ribadito la versione fornita nel primo interrogatorio. Sostiene di aver colpito la compagna una sola volta e si è avvalso anche della facoltà di non rispondere. Faticava infatti a collocare temporalmente i particolari di quella che ha sostenuto essere una colluttazione. Ha anche confermato che la compagna Aurelia nei suoi confronti era diventata spesso aggressiva, circostanza che secondo la sua versione resa precedentemente si era verificata anche la notte dell'uccisione. Intanto i figli della coppia di 8 e 3 anni si trovano temporaneamente nell'abitazione dei nonni materni. Il loro avvocato ha chiarito che chiederà al Tribunale dei minori di Trieste che la tutela dei due bimbi sia affidata a loro. I genitori del presunto assassino invece sono arrivati nella tarda serata di ieri in Friuli dalla Calabria e sono ospitati da alcuni parenti della stessa famiglia della vittima. Nel frattempo le due comunità di San Quirino e Roveredo, ancora profondamente scosse per la vicenda, hanno lanciato una raccolta fondi per i figli della coppia. Fin da ieri poi fuori dall'abitazione sono stati deposti dei mazzi di fiori per onorare la memoria della vittima e oggi alcune mani anonime hanno lasciato un ricordo floreale anche sulla panchina rossa di San Quirino installata alcuni anni fa per ricordare le vittime di femminicidio. Vuole andare dalla ex armato di coltello e di punteruoli, la polizia stradale di Pordenone ha fermato il giovane che viaggiava a piedi lungo l'autostrada a 28. Camminava a piedi lungo l'autostrada a 28 con l'intento di raggiungere l'ex fidanzata a Mantova trasportando nel suo zaino un coltello di tipo militare con una lama da 17 centimetri, una impugnatura con cazzottiera oltre che a due punteruoli in metallo della lunghezza di 8 centimetri. Per questo motivo un giovane ventenne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. A fermare l'uomo un ventenne è stata la polizia stradale di Pordenone che ha notato il ragazzo nel territorio comunale di Porcia mentre a piedato percorreva la carreggiata a 28 in direzione sud. A quel punto gli agenti hanno identificato il giovane e hanno iniziato a porgli alcune domande. Dal colloquio è emerso che il ventenne voleva raggiungere la sua ex fidanzata a piedi con tanto d'itinerario programmato per riconsegnarle un peluche che ricordava la loro relazione. Insospettiti dai fatti narrati, gli operatori hanno effettuato controlli più approfonditi scoprendo che nello zaino, oltre ad alcuni viveri e al menzionato peluche, c'erano anche le armi da taglio. A quel punto il giovane è stato accompagnato negli uffici della sezione polizia stradale di Pordenone dove è scattata la denuncia e il sequestro dell'arma bianca. Ed ora tutte le altre notizie di cronaca le andiamo ad approfondire con le nostre flash news, quest'oggi a cura di Valentina Bearzi. 2000 metri cubi di rifiuti anche pericolosi abbandonati in un'area di 70.000 metri quadrati è quello che hanno scoperto i forestali del nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale del corpo forestale regionale a Martignacco nella zona artigianale. Agli operatori erano stati segnalati alcuni cumuli di asfalto abbandonato, invece si trattava di una vera e propria discarica abusiva di residui da lavorazione artigianale, comprese lastre di Ethernet, imballaggi e tubi in plastica, fusti con liquidi pericolosi, bombole di gas, traversine di legno, residui della lavorazione del calcestruzzo. Probabilmente la condizione parzialmente nascosta dell'area ha favorito nel tempo l'abbandono dei rifiuti da parte di molti e diversi soggetti. L'area è stata posta sotto sequestro penale. Una donna di circa 60 anni è morta dopo aver avuto un malore mentre prendeva sole sulla costa a Grignano di Trieste. Dai primi riscontri pare che la bagnante si sia avventurata anche in acqua e a quel punto si è stata accolta da un malessere fatale. Inutili i soccorsi sul posto, la capitaneria di Porto e i sanitari. 103 le persone controllate, 10 le stazioni interessate e 179 i convogli monitorati è il bilancio dell'operazione Rail Action Day 24 Blue organizzata nell'ambito della collaborazione internazionale di polizia a Dara e il Polle. Sono inoltre stati sottoposti ad accertamenti alcuni depositi di metalli ferrosi situati presso le linee ferroviarie. La polizia si è anche focalizzata sulla prevenzione del fenomeno migratorio sia lungo i binari che a bordo treno. Abbiamo fatto il punto con l'assessore regionale alle infrastrutture, Graziano Pizzimenti sulla situazione della viabilità in Friuli Venezia Giulia dei trasporti e delle scuole. Assessore dunque è un'opera importante sul fronte viario, sulla sicurezza. Come commentiamo appunto questa inaugurazione e anche le opere prossime che saranno inaugurate? Tanto questa è un'opera importante per Cormons, ma non solo perché dà l'idea di un'area che si sta sviluppando in un certo modo e che porta verso Cormons. Prima cosa. Seconda cosa un complimento a chi l'ha eseguita, quindi al Comune, perché fare un'opera di questo tipo in un anno è un tempo record e questo significa che c'è stata una fortissima sinergia tra il Comune e la Regione che ha messo 450 mila euro intanto, quindi ha trovato i fondi e le ha messi. Poi FVG Strade che ha fatto i progetti e infine il Comune che ha realizzato l'opera. Quando si fanno le cose assieme e tutti remano nella stessa direzione sicuramente si ottiene questi risultati che non sono banali. Alcune delle principali opere previste nei prossimi mesi invece sempre nel territorio Diciamo che l'attività, io parlo in questo caso di FVG Strade che è il braccio operativo della Regione e in continuo svolgimento. Anche oggi in giunta regionale abbiamo deliberato su mia proposta un milione e mezzo per le manutenzioni straordinarie del nostro territorio quindi ogni anno vengono dati dei soldi e dei fondi che possono garantire almeno quelli che sono i principali nodi come li chiamano punti rossi o zona rossa, cioè quelli che creano difficoltà e anche possono creare dei disagi molto pesanti alla viabilità. A proposito di viabilità e di trasporti si sta discutendo molto della possibilità di riaprire le scuole prima della pausa natalizia. Allora io con tutta sincerità capisco anche il contro, però io penso e spero che non succeda prima di Natale perché per una decina di giorni riaprire le scuole potrebbe essere pericoloso per il dopo, nel senso che può portare anche dei scompensi non solo per la scuola ma anche per il trasporto. Prima cosa. Seconda cosa con un riempimento del 50% che come adesso dei mezzi pubblici attualmente sarebbe impossibile portare i ragazzi a scuola e portarli a casa perché i numeri sono ovviamente dei mezzi sono limitati. È chiaro che se si porta tutto a dopo la festa e quindi al 7 di gennaio si potrebbe pensare diversamente. Certo che non sarà facile perché non tanto per l'estero urbano, tanto per capirci le corriere, ma quanto per l'urbano. Quindi gli autobus in città il riempimento del 50% diventa un problema non indifferente ed è giusto che sia. Io non voglio creare un problema su questo. Io dico dal punto di vista trasportistico, dal punto di vista salute è un altro ragionamento. Diventa impossibile perché se da un lato possiamo recuperare qualche mezzo con le corriere, dall'altro gli autobus è praticamente impossibile trovarle perché non ce ne sono né sul mercato né tanto meno a ordinare per averli nuovi, che vuol dire un anno o due come minimo per avere degli autobus nuovi. Quindi bisogna un'organizzazione diversa che deve essere estremamente in sinergia e quindi la decisione non sarà solo dei trasporti ma per quanto riguarda anche la collega Rosoleng e quindi anche il Ministero dell'Istruzione. Se il Ministero dell'Istruzione fa un rientro a scuola diversificato, questo vuol dire ho scaglionato in più ore alla mattina o mattina e pomeriggio, allora forse ce la facciamo, se no altrimenti è praticamente impossibile. E questo è appunto l'intervento dell'assessore regionale Graziano Pizzimenti che è intervenuto, è stato presente all'inaugurazione della nuova rotonda a Cormons. Cambiamo ora argomento parlando di benzina, la Giunta regionale ha prorogato il super sconto carburanti per il quarto mese di fila, garantendo per l'area 1 della legge regionale 14 del 2010 lo sconto per la benzina e per il diesel fino al 31 dicembre 2020 e quanto è stato reso noto dall'assessore all'ambiente ed energia Fabio Scocimarro. Abbiamo prorogato per un altro mese, fino al 31 dicembre, l'extra contributo che diamo a tutti i cittadini della fascia 1 affinché abbiano una benzina a un prezzo molto competitivo avendo uno sconto di 20 centesimi sul gasolio e di 20 centesimi sulla benzina a cui si aggiungono altri 5 centesimi per le ibride. Quindi continuiamo ad aver fatto un grosso passo per agevolare anche e soprattutto le famiglie e le fasce più deboli della popolazione. Lo sforzo della regione è importante e il fatto che in questo momento si sa che l'obiettivo principale è la guerra e il Covid, risorse limitate non ce ne sono, il Presidente Federica ha chiesto il contributo del Governo al Ministro delle Finanze e al Ministro di sviluppo economico, aspettiamo una risposta, io butto anche un'interlucazione con i ministeri, ma soprattutto rinforzato la proposta della richiesta del Presidente Federica chiedendo a tutti i parlamentari, senatori e deputati della nostra regione che facciano appunto pressioni nei confronti del Governo della proposta finanziaria affinché ci sia un contributo almeno del 50% in più di quello che già la regione emette, affinché ci fosse nel prossimo anno, nel 2021, questo contributo. Ricordo che il maggior beneficiario del consumo di carburanti è il Governo che Cuba, Fraiva e Accise, oltre mezzo miliardo di euro all'anno. E questa sera si sono accese le luci di Natale nella città di Udine alla presenza del sindaco Pietro Fontanini e l'assessore alle attività produttive, turismo ai grandi eventi Maurizio Franz, oltre ad altre poche autorità anche il sindaco di Fornia Voltri, Sandra Romanin che ha donato i due abeti collocati in via in piazza Lionello e in piazza del Duomo. Si sono accese le luci appunto da lì davanti a Palazzo D'Aronco a seguire ad essere illuminata è stata piazza del Duomo, vediamo le immagini delle illuminazioni, piazza Venerio con la proiezione di fotografie storiche di Udine sul retro della chiesa di San Francesco e piazza 20 settembre con delle immagini natalizie sul palazzo veneziano. Per terminare con l'illuminazione di piazza San Giacomo e via Mercato Vecchio di piazza libertà con l'illuminazione del castello. Tra l'altro nella loggia di Lionello è stato allestito un bosco incantato, un segnale importante, è stato così definito verso i numerosi commercianti, esercenti, imprenditori che stanno affrontando un momento difficile ma anche un elemento di richiamo imprescindibile nel periodo natalizio, un allestimento che fa parte della tradizione non poteva mancare a riscaldare i cuori dei cittadini ma anche dell'intera comunità del Friuli Venezia Giulia. L'invito che rivolgo a tutti soprattutto se dovessimo non poter trascorrere le festività nei numerosi locali del territorio è di sostenere una filiera importante di qualità qual è quella regionale consumando prodotti di pregio locali. Questo è quanto ha detto l'assessore regionale dell'attività produttiva e turismo Sergio Emidiobini che ha rivolto alle autorità e ai rappresentanti degli operatori che sono intervenuti alla cerimonia di accensione e inaugurazione di quest'oggi per l'illuminazione della città come vedete appunto nelle foto delle varie piazze illuminate. Accendere oggi qui le luci ha detto Bini significa riaccendere la speranza. Ed ora andiamo avanti con lo sport ma prima un piccolo break. In un ambiente elegante nel cuore di Udine Bortolin Gioielli presenta i più prestigiosi marchi nel mondo dell'orologeria e della gioielleria e un vivace spazio dedicato a Dodo brand giovane e innovativo. Bortolin Gioielli si completa con la boutique Mont Blanc e con lo shopping shop Pandora dedicato al mondo dei gioielli in argento. La boutique e lo shopping shop si affacciano su Biari Alto e insieme alla nuova gioielleria creano un nucleo brillante in uno dei punti più belli del centro storico di Udine. Kevin Lasagna non ha recuperato dopo la contusione al ginocchio subita nella gara contro la Fiorentina. A Roma invece De Paul disputerà la gara numero 150 in bianconero. Servizio. Se tutte le strade portano a Roma quelle dell'Udinese portano a De Paul e viceversa. Domenica all'Olimpico per il campione argentino saranno 150 in Serie A con la maglia bianconera. Un traguardo che rende onore al percorso di crescita maturato all'Udinese da un calciatore diventato importante in Frioli. De Paul diventerà così il nono straniero per presenze nella storia del club. Alle spalle di mostri sacri tra cui il connazionale Sensini. E' lui il trascinatore dentro e fuori dal campo di questa squadra. E lo dimostra con l'esempio, gli atteggiamenti e soprattutto le prestazioni. Domenica poi avrà l'extra motivazione di voler onorare al meglio la memoria dell'idolo di tutti gli argentini in Maradona. La cui notizia della morte ovviamente l'ha scosso profondamente. Accanto a lui il Fido Pereira, amico fraterno anche fuori dal rettangolo verde, è pronto alla sfida tra compagni di nazionale con l'altro tucu, quello laziale, Correa. Si balerà quindi il tango anche in avanti dove Pussetto è impredicato di affiancare Okaka in avanti. Visto che dati tempi ristretti post-Fiorentina, si valuta la semplice botta al ginocchio rimediata nel supplementare di mercoledì da lasagna. Gotti poi in mediana potrà contare anche sull'apporto dei rientranti Wallace e Coulibaly, pronti a dare una mano e ad aumentare le rotazioni nel reparto anche a gare in corso. Oggi seduta già densa di concetti tattici e quindi a porte chiuse. Domani è l'ora di pranzo, la rifinitura è a seguire. La partenza verso la capitale. E sono giorni caldi in Serie B con l'Assemblea che si è svolta ieri e che ha delineato le prossime linee guida che ora il Consiglio federale dovrà approvare. Var dei play-off e non dal girone di ritorno come ipotizzato inizialmente, stagione 2020-2021 con 21 squadre anziché con gli eventi attuali. Questo significherebbe che le retrocessioni nel campionato attuale diventerebbero 3 e non più 4. Per quanto riguarda il Pordenone, domani c'è la sfida in trasferta contro il Pescara. Alessandro Sursa. Var nei play-off e nei play-out è Serie B a 21 squadre. Dal prossimo anno sono queste le novità proposte dall'Assemblea della Lega Serie B. Proposte che ovviamente adesso finiranno sul tavolo del Consiglio federale. Il presidente della serie cadetta, Maurizio Balata, è però convinto che tutto vada a buon fine. entro il 31 dicembre ogni Lega deve comunicare il proprio format per la stagione successiva e se queste modifiche dovessero essere approvate, cambierebbe molto anche per quanto riguarda il torneo in corso. Sì perché la VAR, inizialmente proposta per il girone di ritorno dell'attuale campionato, verrebbe posticipata alla post-season e perché la volontà di inserire una squadra in più, dalla 2020-2021, porterebbe automaticamente alla riduzione delle retrocessioni che passerebbero da 4 a 3. Insomma è ancora tutto da ufficializzare ma ad oggi non è utopico pensare che si vada verso questa direzione. Parlando di campo invece bisogna andare in casa Pordenone con i Neroverdi che domani affronteranno il pericolante Pescara di Massimo Oddo. Gli abruzzesi sono penultimi in classifica con soli 4 punti ottenuti in 8 giornate ma sembrano in crescita e nell'ultimo turno hanno perso contro la SPAL ma prima della sosta in casa avevano regolato con un netto 3 a 1 il Cittadella. Gara quindi da prendere con le pinze per un Pordenone che dopo l'ennesimo pareggio tenuto contro il Monza adesso deve ritrovare la vittoria che manca dalla gara di Ascoli. Tesserre dovrebbe confermare lo stesso 11 che bene ha fatto contro i Brianzoli anche perché i vari Misuraca, Gavazzi, Barison e Bassoli hanno svolto ancora un lavoro differenziato. I ramarri si affideranno come sempre a Dio, autentica bestia nera del Pescara, ai bianco-azzurri infatti ha segnato tre volte e spera di ripetersi ancora domani. Come sempre prima di salutarci proiettiamoci sulla giornata di domani andando a dare un'occhiata a quelli che sono i titoli dei giornali che troverete in edicola a partire dal titolo del giornale che scrive l'Italia cambia colore, semi liberi tutti, scontro Premier Speranza, Lombardia e Piemonte diventano arancioni, gialle, Liguria e Sicilia. Vietati gli spostamenti tra regioni, Miracolo in Calabria ha nominato per ora un commissario. E avanti il titolo di La Verità che dice al solito il governo scarica il Covid sulle spalle dei cittadini, regioni riapertura con beffa dal rosso all'arancione ma appena per il tempo necessario a comprare i regali. Poi grazie all'incapacità della banda Conte di fare fronte all'emergenza tutti di nuovo chiusi in casa in solitudine a meno che non si sia oltrà del Napoli intenti a ricordare Maradona. Il prossimo titolo quello di Libero che scrive povera Boldrini non sa niente Laura prova a imporre al figlio di Feltri di pubblicare sul suo giornale un articolo pieno di odio e inesattezze nel quale ci attacca sul caso Genovese. Respinta si infuria anziché scusarsi pubblichiamo noi le sciocchezze vergate della signora. Ed è tutto per questa sera, grazie come sempre per averci seguito e la buonanotte ve la dà Guido Gomirato con l'Accadde Oggi. Il 27 novembre 2005 l'Udinese per la tredicesima giornata è di scena sul campo del Parma. I bianconeri che sono allenati da Serse Cosmi vinceranno 2-1 ma il grande matatore sarà Paolo Vittor Barreto che l'Udinese ha acquistato nel mercato estivo dal Treviso e che segna il primo gol in maglia bianconera. Anzi, fa una doppietta perché firma entrambi i gol della meritata affermazione dell'Udinese. Il primo lo realizza in pieno recupero nel primo tempo poi fa il bis in contropiede dopo una sponda con Iaquinta al terzo del secondo tempo e il gol della sicurezza anche se il Parma non ci sta, la formazione emigliana attacca ma la difesa bianconera tiene. E come? Il Parma segnerà il gol della bandiera soltanto nel finale con Corradi. Barreto comunque il primo gol ufficiale con l'Udinese lo segna nella gara di ritorno dei play-off per accedere alla fase a gironi della Champions League contro lo Sporting Lisbona. Si gioca a Udine all'andata i bianconeri avevano espugnato il campo dello Sporting Lisbona per 1-0 nel ritorno vincono 3-2 e Barreto, come ho detto, dà il suo contributo realizzativo. In quella stagione disputa 27 gare di campionato e segna 4 gol più uno in Champions League, come detto e due poi contro il Lenz nella Coppa UEFA. Tutto sommato è un giocatore che si rivela importante molto utile per l'economia del gioco bianconero ma la sfortuna è in agguato per questo atleta nato a Rio de Janeiro il 12 luglio 1985 giunto in Italia, destinazione Treviso nel 2002 e con la formazione trevisana ha debuttato in Serie B nel 2004-2005 segnalandosi come il migliore della squadra Veneta. La società bianconera lo presta al Bari Serie B e Barreto finalmente non più tormentato dalla cattiva sorte fa un importante salto di qualità nella formazione pugliese che è allenata da Antonio Conte è subito Serie A e Barreto sarà l'elemento trainante per la promozione dei pugliesi in quel campionato 2008-2009 segnerà qualcosa come 23 gol in 32 partite si segnala e si esalta anche l'anno dopo in Serie A mentre nella sua terza stagione con il Bari è vittima di nuovi problemi di natura muscolare e deve stare a lungo, fermo rientra per curarsi anche a Udine poi gioca ancora nell'Udinese ma non è più lui sette gare un solo gol realizzato nel torneo 2011-2012 quattro presenze e un gol nella stagione successiva fino al gennaio del 2013 quando passa al Torino ma anche in Maglia Granata il suo rendimento risente della lunga inattività e di nuovi problemi di natura muscolare quindi passa al Venezia in Serie D e infine al Gozzano in Serie C grazie a tutti Grazie a tutti.